È un tampone che viene rinofaringeo e orale, viene inserito in un reagente e dopo 15 minuti ugualmente si ha una risposta positiva o negativa. Sono arrivati anche nelle farmacie retine i test rapidi per medici e pediatri di famiglia, ossia quei tamponi in grado di dare il risultato dopo 20 minuti. Il medico o i pediatri di vera scelta possono richiederli qui da noi, nelle farmacie aperte al pubblico e dopodiché arriva il kit e il medico può fare sia il test rapido sia il test serologico nelle proprie sedi opportune, negli ambulatori chiaramente. Al momento in Toscana non sono vendibili al cittadino, possono essere fatti solo dai medici di base o da pediatri di vera scelta e c'è una proposta di Federfarma di farli anche in farmacia, però attualmente praticamente non sono vendibili assolutamente in farmacia. Questa proposta di Federfarma consentirebbe anche il tracciamento perché una volta che io compro il tampone rapido e viene effettuato comunque c'è una tracciabilità da parte dello stesso farmacista? Certamente, nel momento che il cittadino decide di fare il tampone rapido, il serologico o il serologico che basta, deve essere prima registrato, dopodiché se il paziente è positivo o anche negativo viene inviato alla comunicazione all'ASL competente che poi dopo farà le opportune verifiche attraverso i tamponi molecolari.